Un saluto e ben ritrovati a questo video di approfondimento da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Fra pochi giorni è il sostizio d'inverno 2023 che quest'anno cadrà il 22 dicembre alle ore 4 e 28 ora italiana. Tuttavia questa data non è sempre fissa in quanto può variare nel corso degli anni tra il 20 e il 23 dicembre ma con più probabilità tra il 21 e il 22 dicembre. Il sostizio rappresenta il giorno in cui per il nostro emisfero la durata del D è più breve, è più corta. Infatti i raggi solari arrivano in maniera perpendicolare alla Terra che è inclinata di 23 gradi e quindi al polo nord rimane sempre buio e al polo sud c'è sempre il sole, c'è sempre la luce. Ma fino al XVI secolo il giorno più corto non era il sostizio ma era Santa Lucia in quanto prima dell'introduzione del calendario gregoriano lo sfasamento tra l'anno solare l'anno civile aveva portato proprio questo indietreggiamento dei sostizi e dei equinozi che dunque erano arrivati intorno al 12-13 dicembre per quanto riguarda il sostizio d'inverno per cui Santa Lucia proprio rappresentava il giorno più corto. Poi con l'introduzione del nuovo calendario invece si sono rimesse un po' le cose a posto. Ma per tutti gli altri approfondimenti e altre notizie sull'Italia e sul mondo vi invito a rimanere aggiornati sul nostro sito o sull'app gratuita di Trebi Meteo.